Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infippi lì per lavori di miglioramento della sicurezza a 5 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in A11, un km di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Si ricorda che soprattutto in caso di mal tempo è necessario moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!